Polistena è una cittadina piena di luoghi storici bellissimi. Noi abbiamo un centro storico che fortunatamente è caratterizzato anche da scalinate, le antiche scalinate. Mi riferisco alla scalinata di via Sant'Anna che mette in comunicazione una delle vie principali di Polistena alla via Santa Marina con la chiesa della Trinità. Mi riferisco alla scalinata di via Gorizia che mette in comunicazione la via Trieste, quella pavimentata all'Astrico, centralissima via Trieste, con l'edificio comunale. E per ultima, ma non in ordine di importanza, ma perché è quella che vogliamo riqualificare per prima, è la scalinata di via Polistena vecchia che mette in comunicazione la parte alta di Polistena con la parte bassa nel pieno del centro storico. Ora io voglio ringraziare un gruppo di cittadini che mi ha contattato per promuovere questa candidatura al FAI, il FAI che bandisce ogni anno questo concorso per poter finanziare i cosiddetti luoghi del cuore. Allora noi abbiamo nel cuore appunto questo luogo di Polistena e vorremmo ristrutturarlo e in tempi di penuria di risorse, perché gli enti locali versano non dal punto di vista finanziario in uno Stato idilliaco, allora vorremmo candidarla proprio a questo finanziamento. Allora io invito tutti i cittadini, non solo di Polistena ma anche del territorio, a sostenere questa candidatura, questa campagna che potrà vedere finalmente un progetto di riqualificazione con tanto di finanziamento e che noi come amministrazione saremmo ben lieti di mettere in pratica. Ciao a tutti e votate per la scalinata Polistena vecchia di Polistena. Sono Mimmo Calopresti, sono nato a Polistena, i miei fratelli Scerbo, là dove c'è quel limite tra la vecchia Polistena e la nuova Polistena, quella del dopo terremoto del 1783. Ecco, questi due mondi erano collegati da una scalinata con 80 gradini che io da piccolo insieme ai miei amici percorravamo per entrare nel mistero, nel sogno, nella conoscenza e finivamo sempre alla Trinità, guardare lontano il mare che era una striscia lontanissima blu. Ecco, io vorrei che questo sogno fosse conservato per sempre, in eterno, riuscendo a ristrutturare quella scalinata e conservarla come si deve. Questo è il mio appello per una scalinata per 80 gradini. Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio